Quanto costa mantenere un Audi TT in Italia? Scopriamolo insieme a BenjiCar Per acquistare questa bellezza a due posti con 0 km il costo è di circa 40.000€ Il bollo oscilla tra 687€ e 459€ in base alla regione Visto che questa lezione non supera i 185kW di potenza è esente dal superbollo E per finire il passaggio di proprietà che mediamente è di 907€ E tu compresti mai un Audi TT in Italia? Seguimi per altri tips